...delle aree specialmente del fruttore nostro e della tua... ...sant'Ferdinando, prega per noi... ...Padre nostro che sei vicendio, si è santificato e con noi... ...e venga nel momento di cui si tratta e trova lontano... ...como di cui si è possibile... ...dacci oggi a non fermare i quotidiani... ...cemente a noi... ...como solle... ...dia...